Chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica? C'è ancora molta nebbia intorno alla questione, ma giovedì il Parlamento è già convocato per la prima votazione. Secondo Renzi, alla quarta, al massimo alla quinta, comunque nella giornata di sabato, l'Italia avrà il suo nuovo Presidente della Repubblica. Ma chi sarà? Renzi ce l'ha già in testa, ma si guarda bene dal farsi scappare qualsiasi indiscrezione. Ieri sera ha solo scritto che girano molte balle e che la lunga lista dei papabili non sta né in cielo né in terra. Vero è che la lista è così lunga che potrebbe arrivare fino in cielo. Si va da Amato a Casini, da Padoanna, del Rio, passando da improbabili donne fino a tecnici di chiara fama. Il fatto è che su ogni nome c'è qualcuno che mette un veto e con i veti non si va da nessuna parte, perché per eleggere il nuovo Capo dello Stato, dalla quarta votazione in poi, ci vogliono 505 voti che nessuno ha. Sarà necessario quindi trovare un accordo, superando non soltanto i veti, ma anche le frizioni interne che dividono il Partito Democratico, Forza Italia a 5 stelle. Renzi ha avviato le sue personali consultazioni e ha promesso che sabato, dopo aver fatto votare tre schede bianche ai suoi parlamentari, verrà fuori il nome decisivo. La volta scorsa si cominciò con Prodi, dato per certo cinque minuti prima, è impallinato in aula. Adesso il nome più certo è quello di Amato, ma quando c'è di mezzo il Quirinale la certezza arriva solo dopo 505 voti.